Pare employer branding in talent garden sicuramente significa comunicare quello che siamo quindi una realtà innovativa e digitale che lavora con le persone mettendo al centro le persone all'interno dell'organizzazione stessa noi costruiamo spazi di lavoro innovativi diamo competenze diamo occasione di connessione e quindi raccontiamo di fatto quello che siamo per attrarre persone in linea con quella che è la nostra cultura basata sulla trasparenza la meritocrazia la centralità delle persone e un lavoro costante del team people in culture per costruire esperienze diverse per le persone esperienze che diano un valore aggiunto che diano un senso a quello che fanno le persone e che diano un supporto uno sviluppo un arricchimento nel tempo perché da noi le persone possono avere un impatto e perché possono essere sostenute da un'organizzazione che crede in loro che è agile e che da loro molte e continue opportunità laddove riescano ovviamente accoglierle grazie a tutti